Superata l'ultima curva, si decide tutto nel rettilineo finale. Stasera in palio punti fondamentali per la volata playoff. Uno scontro diretto da vincere a tutti i costi. Dalla Fruit Village Arena di fuori grotta, benvenuti a Generazione Vincente Napoli, Dolomiti, Energia, Trentino. Kamar Baldwin, la sua tripla, ed è il più 9, Trento di Liga. Baldwin, la partenza di Baldwin fino in fondo, c'è il canestro e c'è anche il fallo. Strepitoso Kamar Baldwin. Sokolowski per Owens, all'Eup. Ennis, per Alviti. Ennis, step back, tripla. Lo gestisce, Trentis Hub, Alviti. Si fa trovare prontissimo, due per lui. Ennis, ultimo tiro. Solo cotone, per uno scatenatissimo. Tyler Ennis, finisce 23 pari. Un gran, bel primo quarto. 5 secondi, deve inventarsi qualcosa su di lui. Traum, che lavora benissimo. Allora devi con l'offer. Pullen. Reggia Napoli, 27 a 27. Napoli in sovrannumero, ed è il primo vantaggio di giornata. E la generazione vincente lo firma. In schiacciata, Tomislav Zucic. Liga, con un blocco di Kuk. Forrai, Liga, prende il tiro, trova il canestro. Ha capito tutto Brown, che va da Sokolovskis. Arrivando Ennis. Sokolovskis! Per il più 8 Napoli. Baldwin scarica per Forrai. Ancora lui. Ancora Toto Forrai. Dobbiamo sicuramente limitare le palle perse. E fermarli il prima possibile in contropiere. Perché 50 punti sono veramente troppi in una partita. Armi per me, per fare fino all'intervallo. Quindi bisogna limitare le palle perse. Non permettere di rimbalzi l'attacco. E correre il più veloce possibile. Loco di Liga. Va da lui. Scarico per Baldwin. Splash! Ora Ennis. Ottimo lo scarico in angolo. Piedi per terra. Per Owens. Bang! Bollein. Bollein. Piro vincente. Di gioco Bollein. Un fattore. Quando si accende. Ancora Baldwin. Bada. Hub. Poi in Liga. La finita. Liga. Delicatissimo. Ancora una volta. Brown. Sopolsky. Owens. Ci riprova. E poi ancora canestro. Tarik Owens. La tripla. Importante. Di Matt Mooney. Ennis. Contro Cook. Ancora Ennis. A soffiare il pallone. Derek Cook Junior. Ora Hub. E Cook. Derek Cook Junior. Hub. Taglio di Mooney. Scarica per Forrai. Extra pass. Hub. splendida azione canestro pesante per la Dolomiti Energia Trentino che si porta sul più 10 Bellessa contro Sokolowski si prende la tripla e mette anche questa la Dolomiti Energia 99 a 80 se non è il colpo di grazia ci manca veramente poco B-Liga, tutto facile per lui Ebeling per Brown contro Ellis, Markle Brown appoggia a 2 full time! la Dolomiti Energia Trentino torna a vincere in trasferta ed espugna il palabarbuto battendo 103 a 93 la generazione vincente Napoli la differenza è il fatto che ci abbiamo sempre creduto abbiamo sempre provato a stare in partita qualunque di noi che stava in campo ha dato il massimo e siamo riusciti a portare la cassa